ciao benvenuti su live of barbecue sono federico e quest'oggi vi parlerò del sistema modulare di cucina oasis di napoleon nel particolare con i barbecue b pro 665 la macchina di cui vi parlo oggi è senz'altro una delle più prestigiose della gamma napoleon con i suoi 96 cm di griglia per 46 e i suoi sette bruciatori che sviluppano ben 27 kg la struttura di questo barbecue è senz'altro una delle più robuste sul mercato prova ne è il fatto che è garantita vita ed è costituita interamente in acciaio inox le griglie caratterizzate dalla famosa onda ad esse caratteristica di napoleon sono formate in tondino pieno da ben 10 mm di spessore al di sotto delle griglie interamente in acciaio inox troviamo il sistema di diffusione di calore basato su diffusore di calore a base triangolare che uniforma in maniera perfetta il calore all'interno della camera di cottura sotto i diffusori troviamo dei potentissimi bruciatori in acciaio inox a doppia fiamma i diffusori di calore su base triangolare in acciaio inox della gamma pro napoleon hanno un'importantissima funzione di evitare i ritorni di fiamma durante la cottura permettendo ai grassi che collano dalla carne di scivolare sopra le barre senza mai toccare i bruciatori accesi inoltre i diffusori avi a differenza di quelli ad esse impediscono l'accumulo di grassi il bipro 665 di napoleon è dotato di ben sette bruciatori le cui manopole sono dotate del sistema safety globe che accende con un led rosso i bruciatori quando sono in posizione accesa inoltre è dotato di un bruciatore dedicato per il vassoio di affumicatura incorporato il sistema a led della gamma pro napoleon oltre a proiettare il logo dell'azienda sul pavimento è dotato anche di luci multicolore che possono essere settate su diversi colori nonché la rotazione continua di tutti i colori disponibili questo magnifico barbecue è dotato anche di luci interne che favoriscono la cottura durante le ore serali oltre che di un bruciatore ad infrarossi in acciaio inox dedicato all'utilizzo del girarrosto la cappa del napoleon prestige pro è dotata di una contro cappa interna che favorisce l'isolamento termico della camera di cottura oltre avere una doppia lastra che isola termicamente in maniera migliore dall'esterno e permette di mantenere intatto l'acciaio inox esterno la cappa del nostro b pro 665 è dotato del sistema lift ease che riduce notevolmente l'ingombro nella parte posteriore del barbecue dopo l'apertura il barbecue di cui vi abbiamo parlato oggi è inserito all'interno della nostra cucina presente nel nostro showroom composta di moduli della serie oasis di napoleon la cucina componibile secondo napoleon ogni barbecue da incasso della famiglia napoleon ha il suo modulo su misura caratterizzato da due ampi cassetti un altro modulo presente nella nostra cucina è il modulo a due cassetti di napoleon dove ci sono due cassetti apribili il terzo è fisso generalmente viene utilizzato per incassare sul top al di sopra di esso un fornello un altro modulo presente all'interno della nostra cucina è il modulo pattumiera che ha le stesse dimensioni di quello a cassetti ovvero 61 per 61 centimetri ma al suo interno ha un sportello che contiene il rotolo una carta e una comodissimo cassettone per la pattumiera il quarto e ultimo modulo della nostra cucina è costituito dal modulo universale ovvero un modulo ad anta che può permettere l'inserimento della bombola del gas oppure come nel nostro caso può alloggiare al suo interno gli scarichi del lavandino le cucine napoleon basate sulle moduli oasis sono completamente personalizzabili siamo a vostra completa disposizione per studi e preventivi personalizzati a presto a presto a presto